e ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video sono senix e oggi signori siamo tornati su football manager 2020 con una nuova linfa una nuova squadra sembra date le ultime prestazioni perché nelle ultime tre partite abbiamo veramente fatto molto molto bene a parte la sconfitta contro la lazio comunque in trasferta che ci poteva stare tantissimo abbiamo vinto ancora in trasferta contro la sampdoria e in casa contro l'empoli 2 a 0 ma parte i risultati quello che ha stupito maggiormente la mole di gioco che siamo riusciti a costruire molto diverse rispetto al passato dove subivamo contro tutto e tutti quindi ragazzi prima di iniziare ovviamente vi ricordo che siamo in live su twitch dal lunedì al venerdì dalle 21 alle 23 poi scrivete tutti i social che vedete scorrere qui sotto in questo nuovo banner oggi tra l'altro chi andremo ad affrontare signori chi andremo ad affrontare affronteremo il brescia che siamo proprio alla vigilia sì domani alle 15 in casa sassuolo in trasferta e cittadella ancora in casa ragazzi quindi un un episodio dove possiamo andare a raccogliere almeno sei punti se continua la nostra il nostro stato di forma eccezionale siamo anche favoriti tra l'altro contro il brescia sia 1 e 67 va bene andiamo avanti al più presto ragazzi ci sarà una live qua su youtube per festeggiare i 500 iscritti e poi anche per andare a fare il mercato sul football manager quindi andiamo ad unire l'utile al dilettevole quindi sarà qua su youtube ovviamente per ringraziare tutti voi signori allora intanto un attimo andiamo a fare la formazione siamo arrivati alla partita al momento della partita contro il brescia a livello fisico siamo messi un po' maruccio a dir la verità mettiamo gari medel per mattia viviani il buon gilberto non ne può più proviamo un baie che torna dall'infortunio giusto in tempo poi proviamo robinac per trincao lo stesso vale per armini mettiamo legende bastoni e ragazzi siamo proprio messi male messi male a livello fisico ragazzi e niente bastoni deve stringere un po' i denti sewich può andare a reca o no va eise dai va eise che mi sembra più adatto al momento a livello fisico era uno che resta bucciabacca che sta giocando benissimo in questo momento lo andiamo a togliere anche lo facciamo riposare per il resto credo che possa andare bene così e allora signori ci siamo la nostra formazione l'abbiamo già vista mentre il brescia scende in campo con un 442 diamante stretta gomis in porta matteio papetti cistana e martella in difesa torrasi mediano marazzi lussignoli a centrocampo changu dietro le due punte aie e marlos spogliatoio fare la squadra aggressivo dunque vendichiamoci si vedete tutti motivati ormai la squadra raga ha preso fiducia non è più la squadra che perdeva contro tutti ormai sti ragazzi hanno preso confidenza tra di loro ecco vedete subito il primo tiro lì a sinistra esattamente qui è nostro bruno martella monito ottimo bravo siamo già al quarto d'ora 20 minuti nulla ancora accaduto andiamo subito a dire alla squadra ovviamente di domandare di più 27 28 un'azione eccola qua la prima azione un cartino giallo per le gen immagino no un richiamo forse verbale sì un avvertimento per il buon le gen attenzione il brescia in avanti aie c'è bastoni che va a fare una grande idiozia ma grazie al cielo c'è sportiello che mette una pezza la mette in calcio d'angolo changun la va a battere in mezzo le genna lontana siamo veramente a pezzi fisicamente ragazzi quindi non sarà comunque una partita facile ancora andiamo a dire alla squadra di esser creativi signori rimessa laterale in difesa eise verso moriba ancora eise fascia sinistra il lancio lunghissimo verso chi è questo scusi chi sei chi sei verso robinac eccolo qua robinac prende palla e parte parte robinac centrale attenzione il cross niente changun la spazza lunghissima il lap and under c'è la genna che la va a raccogliere bayè fascia destra ancora all'indietro per la genna all'indietro addirittura si appoggia sportiello che può ricominciare l'azione si riparte dalla difesa attenzione perché bastoni ogni tanto ha degli svarioni si scorda il pallone hack hack dentro l'aria il tiro perché non metterla in mezzo per esempio non sarebbe un'idea migliore caro hack no evidentemente per lui no intanto bayè ancora per xadas all'indietro per la genna centralmente sull'altra fascia anzi sinistra hack ancora vola velocissimo oggi molto ispirato robinac il cross sempre molto impreciso medel raccoglie ancora hack ancora per medel il pitbull verso ranocchia abbiamo un pitbull e una ranocchia centrocampo perfetto abbiamo fatto tutta la fattoria poi ace sulla destra ancora medel il catania alla ricerca del vantaggio con insistenza bayè il filtrante per xadas in mezzo esposito il pallone gol si grandissimo sebi se starete dalla stagione assist xadas proprio un gol propizio che arriva quasi allo scadere vediamo se ci sarà addirittura il raddoppio oppure il pareggio le genna bravo bravo con calma signori sportier bravo bastoni verso medel centrale hack medel guardalo bravissimo medel che visione di gioco per ace il cross in mezzo ranocchia beccato porca miseria il commissale mette in calcio d'angolo ma va bene la squadra è viva daje xadas il corner la batte ancora ribattuta la difesa hack va a raccogliere bastoni va bene niente da fare finisce il primo tempo il catania avanti 1 a 0 gol del nostro sebi esposito appassionato avete giocato bene ma c'è sempre margine per migliorare ovviamente ragazzi quindi stiamo attenti siamo al 68esimo signori vediamo se riusciamo a fare qualche cambio bayè è davvero distrutto 67% possiamo provare niente non ci sta nessuno porca miseria niente bayè deve resistere poi bastoni potremmo provarlo al posto di nicolò armini e ci siamo poi daniel maldini per moriba che un po spente in questa partita per adesso ragazzi magari andremo più avanti a cambiare al buon ranocchia confermiamo e andiamo concentratevi concentrate 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 concentratevi posso grazie spostiamoci aspetta lo facciamo quando siamo all'ottantacinquesimo ok soluzioni squadra possiamo perdere tempo per 5 minuti direi di sì d'accordo daie e calla guarda e sabelli verso marazzi centralmente per monic martella all'indietro per cistana ancora si appoggia a gomis il lancio sabelli preda però attenzione di eise con calma eise non fa mostronzata per favore sportiello bravo armini da signori ne usciamo complimenti robinac verso medel ancora per robinac anzi attenzione metto pausa proprio mandiamo un attimo a togliere sì bravo mettiamo viviani per ranocchia perfetto grazie ak ranocchia proprio lui il lancio verso baye baye sulla fascia destra ormai distrutto baye però alla forza per metterla dentro c'è ak che va a mettere il sigillo finale andiamo a chiuderla bravissimi grande ak l'avevo detto che era ispirato il buon robin oggi ah ottima partita ragazzi non abbiamo guardate un po le statistiche 17 tiri il catania di cui sei in forte il brescia ha fatto un tiro e un tiro in porta regà proprio non abbiamo concesso nulla la difesa si sta comportando egregiamente in queste ultime partite davvero bravi 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 e guardare il catania ha fatto un balzo 11esima posizione stiamo scalando le gerarchie ancora c'è tempo per il 3 a 0 il tris sebastiano esposito va addirittura fa doppietta e questo quando esposito fa doppietta signori è ovvio più di ovvio che c'è e il vento è effettivamente cambiato perché nella fino a cinque partite fa esposito quando mai esposito avrebbe fatto doppietta mai nella vita comunque benissimo ragazzi mettiamo anche la parola fine al discorso salvezza perché saremo molto molto avanti poi la classifica comunque la vedremo alla fine adesso andremo a sfidare una nostra pari classifica ovvero il sassuolo che si trova a tredicesimo credo a pochi punti di distanza da noi ed è a 15 giorni perfetto così avremo anche il tempo un attimo di recuperare le forze fisicamente perfetto ottimo 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 dai rega dai 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 e allora signore ci siamo alla vigilia della partita contro il sassuolo andiamo avanti siamo dodicesima contro tredicesima in trasferta quindi comunque sarà una partita abbastanza complessa non puntiamo alla vittoria speriamo magari in un pareggio per poi andare a vincere contro il derelitto cittadella che è straultimo in classifica siamo addirittura in casa quindi mi aspetto magari non troppo in questa partita per comunque andare a trovare i sei punti complessivi dell'episodio come vedete fisicamente finalmente abbiamo recuperato siamo a posto andiamo allora a mettere no se vuoi c'è infortunato quindi mettiamo esatto gilberto lo rimettiamo in panchina armini va a prendere il posto di legione bai ex adas da posto da buccebac che era giocato molto bene hack si è meritato comunque il posto di titolare lì a sinistra medel da di nuovo il posto a vivino dove sta viviani perfetto come sempre centrocampista di quantità di supporto e moriba esposito per il resto ragazzi diciamo che ci siamo taglie va bene andiamo avanti in baie o sì ok cominciamo allora signori il sassuolo scende in campo con un 4 4 2 diamante stretta perina in porta tessaro kiriches gumbulle che chi in difesa bisoli mediano oulai frattesi a centrocampo lilovic a supporto di babacar raspadori spogliatoio parola squadra energico anzi c'è quello della vendetta no non c'è non ci dobbiamo vendicare va bene ultimamente stiamo andando bene continuiamo così calcio di inizio gioca non sembriamo neanche noi porca miseria raspadori subito il sassuolo adesso in possesso palla ovviamente essendo in casa avranno il pallino del gioco bisoli all'indicato per combulla baie però va a recuperare il lancio lunghissimo cercate esposito attenzione sebastiano e te pareva e giustamente ne ha fatti due la partita scorsa che può continuare a segnare no è impossibile alilovic la mette in mezzo babacarra va bene il colpo di testa che finisce alto dopo otto minuti già una partita bella frizzante bella frizzantina signori quella che stiamo vivendo al mapei stadium a bucciabacca si è stato munito diciamo di andarci piano con le scivolate di fare contrasti soft molto leggeri lo stesso varrà adesso per baie e anche per basò ma sempre tutto ammoniti e che cazzarola nartro pure chi è bastoni tutta tutta la squadra ammonita perfetto tutta la difesa ottimo quindi saremmo costretti ad andare a fare qualche cambio adesso a fine primo tempo perché raga qua il l'espulso è proprio dietro l'angolo allora andiamo di aggressivo non mi soddisfa per niente vedete che l'abbiamo belli tutti caricati andiamo a dire anche di domandare di più alla squadra kiriches siamo al 47esimo attenzione perché ho il terrore dell'uomo in dieci adesso bravissimo viviani come va ecco appunto niente non gli può fare un complimento che subito vanno a fare l'idiozia di chi è sta palla esposito va lui sul pallone attenzione sebi all'indietro per eise il lancio filtrante per robinac dentro l'aria robinac in mezzo arriva niente non arriva nessuno anzi riparte il sassuolo peccato raspadori 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 e calla e te pareva è il nero sicuro signori nero sicuro troppi ammoniti però posso andare a fare un cambio al 45esimo poi a tanto sono quattro ammoniti chi va a togliere e adesso siamo costretti attimo togliamo moriba e andiamo a mettere a legione sì 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 e magari esposito lo abbassiamo come dunque 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 secondo come attaccante che pressa ok attaccante che pressa abbassiamo i terzini di un po a sto punto puntiamo al pareggio signori dai e sta solo in avanti ovviamente adesso forte dell'uomo in più eise attenzione contropiede vediamo ranocchia giustamente mo lì davanti manca un uomo che può far da connettore tra centrocampo e attacco buccia bacca però vede in baie baie avanza velocissimo in baie in baie in baie centralmente per ranocchia e niente raga niente 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 babacar il lancio verso tessaro ancora fermato da eise che è bravissimo robinac viviani va a prendere sta palla il canale comunque lotta lotta e non si arrende ranocchia avanza ranocchia vede ac dall'altro lato che può provarla a mettere in mezzo mamma mia no no perché perché mi dovete ogni volta spezzare tutti i nostri sogni chi è quella è morta che è successo ma porca miseria ce l'avevamo pure fatta andiamo un attimo a fare un altro cambio signori leviamo un baie che non lo vedo benissimo su quella fascia destra che pure ha monito per carità non vorrei finire pure in nove sessantacinquesimo domandiamo di più dai regà forza possiamo farcela ehi se il catania sta lottando nonostante l'uomo in meno grandissima prestazione viviani a prescindere poi dal risultato finale ehi se la mette in mezzo esposio non ci arriva gilberto la va a raccogliere però con calma sembra un vecchio novantenne gilberto dall'altro lato ancora robinac 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 entra dentro l'aria il tiro ci provo ma attenzione la palla danza su quella linea ma non entra gilberto ancora pronto per il controgrosso niente da fare niente 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 da fare settantacinquesimo 76 mettiamo guarda bucciabacca lo togliamo che è ammonito e mettiamo pure xadas che l'ultima partita ha fatto anche l'assist vincente per esposio vediamo se si andrà a ripetere questa prestazione 81 se bastoni non si fosse fatto espelere signori questa la poteva andare a vincere comunque un pareggio 0 a 0 va più che bene quello che interessa a noi è appunto la prestazione d'accordo no no dai sono felice della prestazione signori bravi 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 in trasferta contro una squadra che a quanto dice la classifica è al nostro stesso livello quindi signori stiamo andando benissimo e ora ragazzi ci andiamo ad avviare verso quella che sulla carta sembra essere la partita più facile del trittigo che abbiamo fatto finora ovvero il cittadella straultimo davvero non ha più speranze né di salvarsi né di fare altro quindi mi aspetto essendo oltretutto in casa una vittoria netta senza nessun problema quindi andiamo andiamo speriamo visto che molto spesso football manager le partite appunto che sulla carta sembrano quelle più facili le rende le più difficili neanche se andassimo da sfidare la juventus quindi andiamoci sì ma con cautela signori non pensiamo di aver già vinto perché questo è l'errore più grande che possiamo fare intanto torniamo live perché addirittura ci offre un posto al pesve in doven dove ragazzi io vado a rifiutare perché siamo partiti con questa squadra dalla serie c l'abbiamo portata in serie a e dobbiamo assolutamente andare a vincere qualcosa di importante dopodiché possiamo iniziare a pensare anche a muoverci in altre direzioni mazza ho tutta la squadra meno male che siamo contro il cittadella quindi possiamo permetterci di fare un po di turnover e bastoni lo togliamo mettiamo le jeanne ranocchia mettiamo Deiola dai mettiamo Deiola per Ranocchia e Gilberto ecco a te pareva ogni volta ho uno infortunato e l'altro indisponi sempre tutti e due non vanno d'accordo Gilberto con il buon baie va bene ok cocciolava qua lo rimettiamo dentro e quindi dicevo ragazzi prima di poter ambire a palcoscenici più importanti dobbiamo e voglio assolutamente vincere qualcosa con questa squadra poi possiamo pensare a muoverci se avessi ancora infortunato va bene dai la formazione mi sembra quella giusta possiamo andare e vediamo il cittadella come cercherà di rispingere i nostri attacchi con un 3142 prudente un modulo molto strambo molto non proprio è canone diciamo paleari in porta varotto adorni e tanacevic in difesa ruggiero mediano poi samuelsen proia d'urso cabezzas al centrocampo due punte zarpellon e il buon rossi lì davanti va bene parliamo la squadra aggressivo c'è la una squadra come la nostra dovrebbe vincere queste partite senza problemi quindi ragazzi cerchiamo di essere ecco subito attenzione dopo quattro secondi c'è già un'azione importante con il cittadella in possesso palla samuelsen centralmente per prola ancora samuelsen all'indietro per adorni si appoggiano al portiere ricominciano da capo il lancio però è preda di gilberto ancora verso esposito che si può scatenare in questa partita esposito dopo 30 secondi già c'è un'azione importante esposito può trovare continuità proprio in queste partite dopo 5 minuti un'altra azione ancora il cittadella però per con il possesso palla vediamo c'è prola verso samuelsen protagonisti i due fino adesso in questa in questo momento di partita dormi per ruggiero ancora dormi il cittadella in avanti ma non riescono a sfondare vediamo adesso c'è samuelsen centralmente per prola ruggiero il giro palla del cittadella è ottimo zarpellon cabezas il tiro ancora c'è sportiello un'azione per uno non fa male a nessuno attenzione gilberto 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 sulla face testa se la fa tutta inseguito moribba ancora centralmente deiola o deiola esposito accì il tiro sì ok io quando quell'arbitro qua fa così con le mani per sentire dal var se c'è qualcosa mi mi mette il terrore ma intanto dopo 13 minuti il cadane passa in vantaggio grazie a robinac signori viviani l'allarghiamo ancora verso robinac assoluto protagonista in queste tre partite c'è grandissimo ancora c'è sì ok dai a buccia bacca dai e così regà e qua sarà goleata signori e qua sarà goleata la squadra si è sbagliata siamo adesso inarrestabili siamo adesso inarrestabili la buccia bacca la mette dentro e ancora viviani signori 3 a 0 niente non finalmente partite dove non c'è la sofferenza ragazzi abbiamo sofferto è peccato è un peccato perché avessimo trovato sia questo modulo sia ai vostri consigli l'avessimo applicati prima intanto ancora io mentre parlo qua stand a fa proprio filotto dicevo l'avessimo applicati prima probabilmente saremmo in una posizione di classifica ben diversa perché ripeto questa non è una squadra ovviamente da da primi quattro posti da da top elite però è una squadra che raga in europa league ci poteva arrivare assolutamente perché ha dei giocatori molto molto importanti hack in mezzo a buccia bacca ancora è davvero adesso mi inizio a dispiacere per il cittadella che vivrà un pomeriggio d'inferno oggi burso il cittadella in avanti attenzione sammelsen il tiro e vediamo riapre diciamo si apre un piccolissimo spiraio per il cittadella 4-1 moriva tra l'altro una difesa che non subisce non subiva gol da non so quanto tempo sammelsen attenzione no eh no non esageriamo ma va bene tutto però vabbè sammelsen proprio la va a svirgolare a buccia bacca può avanzare può avanzare corre veloce corre veloce felice e veloce viviani da iola ancora per viviani da iola viviani da iola viviani hack eise in mezzo a buccia bacca di testa eh ragazzi non può nulla va a fare il 5 a 1 la manita la manita contro il cittadella eh questa manita potrebbe diventare anche una doppia manita se continuiamo così va benissimo spogliatoio parla la squadra appassionato energico sono davvero felice ovviamente la prestazione ragazzi continuate così andremo anche a vedere a fine partita la dinamica delle squadre se effettivamente è cambiato qualcosa sia il livello di affinità di atmosfera spogliatoio ragazzi eh vedremo che differenza c'è tra adesso e quando perdavamo ovviamente tutte le partite cabezas una spina nel fianco oggi cabezas per la squadra l'unico che sembra fare qualcosa di importante infatti eh la va a mettere in mezzo per rossi che tutto solo in fila il buon sportiello va bene così siamo ancora sul 5 a 2 il catania in avanti adesso viviani in mezzo buccia bacca ancora di testa ma esposito ha segnato esposito no però ha fatto tre assist dai vabbè famo che un gol tre assist equivalgono un gol intanto moriba attenzione il nostro specialista in mezzo è in mezzo il tiro grandissimo 6 a 2 settima rete della stagione grandissimo andiamoli a lodare andiamoli a lodare bravi 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 signori bravi ragazzi stiamo ovviamente anche subendo un po' a livello di goal perché comunque la squadra è rilassata ragazzi è non è proprio concentrata al massimo ovviamente siamo quattro gol avanti quindi è ovvio che la concentrazione non è alle stelle legione adesso appoggia prese vediamo se ci ci sarà addirittura il settimo gol robin h l'indietto per viviani i olè del pubblico e se per h adesso c'è entusiasmo nell'ambiente viviani sotto il set signori andiamo a fare il settimo gol sotto il set per il settimo gol giustamente ci stava ci stava una squadra davvero inarrestabile signori una squadra inarrestabile o benissimo andiamo a mettere qualcuno dai c'è posto per tutti gocciolava mettiamo no vlau c'è gocciolava ho detto bene c'è posto per tutti in questa partita poi poi possiamo togliere gilberto abbiamo detto no mettiamo trincao per robin hack gli facciamo prendere la standing ovation per robin hack e proviamo no non proviamo nessuno perché siamo ancora sessantesimo ci teniamo un cambio di riserva non si sa mai 84 86 87 88 89 90 due minuti di recupero va bene così va bene così non succede più nulla e vabbè è successo anche troppo in questa partita che cos'è che dice dovremmo far capire loro quanto ne apprezziamo gli sforzi ma noi andiamo a dire che sono stati bravissimi sono davvero felice del risultato signori continua così bravi bravi o benissimo vediamo adesso la classifica sono curioso di vedere quanti punti abbiamo rosicchiato lì davanti allora gocciolava debutta con il catania poverino siamo ad aprile sta debuttandone vabbè a bucciabacca è stato di grazia il nostro migliore in campo cinque partite adesso senza perdere signori e in queste cinque partite abbiamo vinte quattro e per sei pareggiata una quindi voglio dire è un grande grande cambio di rotta e calla perfetto proprio già ho visto quella squadra che ci andrà ad arrestare questo cambio di rotta comunque la classifica recita che siamo a più 14 intanto dalla zona retrocessione quindi quella l'abbiamo messa di lato poi a 36 punti si direi siamo a 15 punti dalla lazio sesta a 16 dal milan direi sì che questa stagione ragazzi ce la vivremo come una stagione di tranquillità come di metà classifica faremo un campionato tranquillo dove come in questa partita ci andremo a prendere le nostre soddisfazioni l'anno prossimo come detto faremo più attenzione magari al mercato e vediamo vediamo cosa andrà a succedere le dinamiche vediamo un po ecco vedete la fiata vento squadra adesso da rosso sta salendo vertiginosamente e quindi questo sta facendo la differenza guardate l'atmosfera spogliatoia adesso eccellente il sostegno eccellente sta girando tutto tutto benissimo e vediamo se riusciremo a fare lo scherzetto proprio a loro proprio alla juventus che sarà contro di noi sabato 15 aprile poi vedremo il frosinone e la fiorentina dove sta la juve prima no anzi la juve ha recuperato un po perché era metà classifico per loro sono quarti poi la fiorentina e tredicesimo quindi dietro di noi a tre punti l'altra qual era lo scordate il frosinone non sta il buon ai sociali non stanno 17esimi lottano per la salvezza benissimo ragazzi detto questo fatemi sapere la vostra qua sotto ovviamente nei commenti mi raccomando iscrivetevi a tutti questi social che avete visto scorrere in questo banner multimediale qua sotto vi ricordo anche che siamo live su twitch e da lunedì alle venerdì dalle 21 alle 23 detto questo signore noi ci vediamo domani con dei nuovi video ciao